A delle partite di questa sera del Napoli che affronta a Firenze la squadra di Delio Rossi domani sera appunto il match allo Juventus Stadium tra la Juve e la Catania il Catania del presidente Polvirenti che ha un progetto, il progetto dello stadio Catania è uno splendido centro sportivo, è stato costruito di recente e ha presentato il progetto stadio, allora andiamo a Catania Dopo il centro sportivo di Torre del Grifo il nuovo stadio l'annuncio è stato dato dal presidente Polvirenti che ha presentato al sindaco il progetto per la realizzazione del nuovo impianto in 2-3 anni in zona Librino Lo stadio sarà quello che abbiamo detto noi da 30 a 35 mila posti questo poi si vedrà in fase di realizzazione, tutto coperto io la cosa bella e importante è che questa struttura verrebbe utilizzata 7 giorni alla settimana verrà utilizzata la domenica o il sabato per la partita e poi tutti gli altri giorni è una struttura assolutamente dal comune e dalle persone che verranno dai cittadini questa è un'operazione che costa da 80 a 100 milioni questa è l'idea che noi abbiamo di costo dello stadio sarà in erba naturale e non ci sarà un secondo terreno di gioco, solo uno L'annuncio dell'avvio del leader per la realizzazione del nuovo stadio alla vigilia della partita allo Juventus Stadium una vigilia caratterizzata dalle polemiche dei bianconeri per i rigori non concessi dopo il recupero di Parma Credo che si possa dire che veramente fino adesso gli arbitri in senso generale a detta di tutti stiano facendo un grandissimo lavoro naturalmente non credo che ci possa essere un disegno e lo dico disinteressatamente un disegno contro la Juve altrimenti avrebbero dato il primo rigore che probabilmente c'era su Giovinco credo che possa accadere o meglio potrebbe anche accadere che possa sbagliare l'arbitro sabato ma non credo che ci sia un disegno anche da parte eventualmente da parte sua l'errore fa parte del gioco e deve essere l'arbitro e credo, sono sicuro che sarà così dovrà essere sereno anche di sbagliare serenamente mi auguro che sbagli il meno possibile che se dovesse sbagliare magari sbaglia fuori del cadale a parte le battute ma ci può stare l'errore Così la sorriso, la pacatezza di Vincenzo Montella che sta disputando anche a Catania una brillante stagione sento